ciao a tutti e bentornati a gioca con me giochi per bambini oggi vi presento questo playmobil city life si tratta di una mamma con il proprio pupetto nel passeggino un passeggino tra l'altro super moderno e anche una mamma super moderna che si è appresta ad andare a fare un giretto con il suo bambino è il numero 5491 dai 5 ai 12 anni e vedete che abbiamo anche un cambio per la mamma o meglio non un cambio ma un outfit quindi una gonna di jeans per questo dicevo che è un po una mamma sprint una mamma moderna con questa bella gonna di jeans e questa borsetta a tracolla nella quale presumibilmente terrà anche tutto l'occorrente per il bimbo sono 16 pezzi quindi non tanti abbiamo il bimbo la borsa la mamma la gonna di jeans e il passeggino in tutti i suoi pezzi ovviamente che dobbiamo costruire allora apriamo come sempre troviamo le nostre buste immancabili il segno distintivo di playmobil ecco qui abbiamo vedete passo passo come costruire il passeggino e qui ci dice appunto come mettere la gonna per la mamma ma questo ormai lo sappiamo perché abbiamo creato tanti di quegli outfit per le nostre figure playmobil che ormai lo sappiamo bene eccola qua la mamma castana con queste super ciglia avete visto e il suo piccolino o la sua piccolina perché in realtà ha questa maglia con i fiorellini quindi potrebbe essere anche una bimba direi vedete il viso della mamma con queste ciglia lunghissime che mi fa sempre un po strano perché di solito le ciglia lunghe sono nella parte sopra no quelle sotto e realtà sono molto più corte ma comunque è un segno distintivo anche questo dei nostri playmobil la bimba invece la solita faccina playmobil e la mamma le scarpe con un po di tacco e anche lei la maglia fiorellini giusto per uscire in con la figlia coordinate mettiamo la gonnellina vedete questa gonnellina di jeans con un bel cuoricino qui in fondo ovviamente fucsia che riprende la maglia quindi anche una mamma in tinta e la borsa cui dobbiamo aggiungere la tracolla perfetto la mamma anche un bracciale vedete no scusate un orologio due orologi sarà sicuramente un orologio per qualcos'altro perché due orologi mi sembra eccessivo e poi costruiamo la carrozzina del bimbo o bimba ok vedete prima ovviamente questa è la parte che si può staccare dalla carrozzina e mettere per esempio in macchina o trasportare a mano tutte le carrozzine moderne ormai hanno questa combinazione molto molto bene ok abbiamo costruito il tutto vedete siamo pronti per la passeggiata vediamo se riesco a fissare anche dall'altra parte direi di no non ci sta quindi ora non riesco più a trovare giustamente il modo per fissarlo bene come prima ma non è già me così andiamo sì dovrebbe essere giusto mamma pronta a fare il suo dovere e via che si va a spasso a passeggio con la mamma non so se avete notato il cuore sulla borsa che riprende il cuore sulla gonna di jeans quindi è una mamma veramente super in tinta super fashion che guarda ogni piccolissimo dettaglio e che ovviamente può portare anche il bimbo come vi dicevo a mano così se dovesse essere più comodo oppure appunto in macchina per caricare la carrozzina ecco qui questo è un playmobil city life come vi dicevo e sapete che ogni tanto ci sono questi set staccati da tutto il contesto proprio perché magari a qualcuno manca un pezzo manca qualcosa per completare magari il proprio ambiente e quindi si mettono a disposizione questi piccoli pezzi questi piccoli sette bene aspetto i vostri commenti i vostri mi piace i vostri like noi ci vediamo la prossima volta mi raccomando restate sempre sintonizzati qui sul canale ciao a tutti